Sono Cauter, sono una studentessa di relazioni internazionali e ho 24 anni. Ho origini marocchine, sono venuta qua all'età di 5 anni insieme a mia madre e mia sorella per raggiungere mio padre. Essere di seconda generazione vuol dire avere più di una cultura d'appartenenza. Per esempio io ho come bagaglio culturale sia la mia cultura del paese d'origine, il Marocco, e anche quella italiana. Attualmente, da quasi un anno e mezzo, faccio parte di un'associazione che si chiama Arcipalago Sardegna. Oltre a occuparsi di formare rete con gli altri enti locali e associazioni del territorio, si occupa anche di migranti e seconde generazioni. Sono Amalia Ghifari e sono nativa del Marocco, ma sono cresciuta nella regione Sardegna. Quando ero arrivata non parlavo la lingua. Questo mio percorso mi ha portato poi a vivere tutte e due le situazioni. Da prima non essere cittadina e comunque dover rinnovare il permesso di soggiorno, dover fare tutto, a diventare poi cittadina italiana. Quel giorno in realtà mi sentivo comunque, diciamo, rinatta, come aver avuto comunque una seconda possibilità. o perché a un certo punto ho iniziato a sentirmi parte integrante della società sarda. Io dico sarda perché comunque per me la Sardegna rappresenta qualcosa di diverso, cioè la sento casa. Io dico sarda perché non ho iniziato a essere con la scuola, ma non ho iniziato a essere con la scuola. Grazie.